come si diffonde il coronavirus anche tra i bambini come difenderli come difenderci dalla contagio anche nella stagione estiva e come gli artisti possono farci ritrovare un sorriso provremo a scoprirlo insieme ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione un format voluto dal nostro gruppo editoriale per approfondire l'informazione sulla covid-19 attraverso la nostra multimedialità ci occupiamo subito di covid e bambini insieme al professore Giovanni Corsello docente di pediatria all'università di Palermo e già presidente della società italiana di pediatria benvenuto professore grazie per essere con noi grazie a voi buon pomeriggio tra poco dialogheremo anche con un artista molto amato l'attore Pari De Benassai con la sua simpatia proveremo anche a capire come gli artisti possono aiutarci a ritrovare un sorriso e allora intanto professore ecco dicevamo covid e bambini sicuramente ecco l'abbiamo detto anche in questi giorni la notizia della di un bambino che si è fatto male durante un centro estivo è stato soccorso in ospedale e per caso facendo il tampone che lo ricordiamo è obbligatorio quando si va appunto in ospedale è stato scoperto che era stato contagiato era positivo al coronavirus e insomma professore lo vogliamo ricordare per ribadire che i bambini non sono assolutamente immuni ecco come avviene il contagio anche tra i bambini professore certo i bambini non sono immuni dal contagio nel senso che possono contrarre il virus e quindi avere un'infezione sono non immuni ma hanno un rischio di malattia più basso perché pur incontrando il virus non sempre sviluppano segni clinici e quando li sviluppano sono per fortuna dei segni clinici poco rilevanti sul piano clinico nel senso che non sono gravi e si risolvono spontaneamente quindi il covid 19 è una malattia che interessa in modo non grave i bambini questo è già una buona notizia però i bambini anche sani anche asintomatici possono incorrere nel virus contagiarsi e anche diffonderlo quindi non sono immuni non sono vaccinati dal virus hanno delle manifestazioni cliniche molto lievi e questo cominciamo a capirlo perché intanto i coronavirus anche che conoscevamo prima davano nei bambini segni clinici molto sfumati anche questo nuovo coronavirus da segni clinici sfumati perché i recettori verso questo virus sulle cellule dei bambini sono poco espressi quindi il virus non riesce a penetrare in modo efficace dentro le cellule dei bambini e poi il sistema immunitario dei bambini che ancora non è completo non è maturo come quello degli adulti limita gli effetti della malattia non amplifica i segni clinici quindi c'è una sorta di protezione naturale verso la le manifestazioni più gravi dal punto di vista dei dati epidemiologici questo è confermato perché su tutti i soggetti che si sono contagiati nel mondo la percentuale dei bambini varia tra l'uno e il due per cento e questo è una conferma di questo dato che ci sono ecco la conferma c'è anche del dato allora si parla di stagione estiva il tempo in cui si prova ad andare in vacanza ci sono i centri estivi per bambini ecco quali precauzioni professore bisogna adottare appunto per quello che dicevamo prima cioè che i bambini possono comunque contagiarsi e diffonderlo è importante che le misure di prevenzione interessino e riguardino anche i bambini però tenendo conto dei diritti dei bambini non si può pretendere che i bambini vivano in un contesto di isolamento perché questo interromperebbe il loro diritto ad avere una relazione tra pari abbastanza fisiologica quindi quello che bisogna fare è evitare le situazioni di rischio cioè evitare gli gli assembramenti con troppi bambini evitare di tenere i bambini in luoghi chiusi ecco perché i centri estivi sono importanti perché essendo all'aperto consentono di vivere un'attività relazionale in piccoli gruppi senza il rischio di contagiarsi quindi centri estivi sono sicuri a patto appunto che non ci siano grossi assembramenti e che i bambini condividano delle attività e delle esperienze all'aperto perché diciamo all'aperto perché un altro dato che si è consolidato in questi ultimi mesi è che all'aperto soprattutto nella stagione estiva il virus vive meno nell'ambiente cioè viene eliminato più facilmente la a una carica virale una carica di contagiosità più bassa quindi la stagione estiva è effettivamente una stagione in cui è meno probabile contagiarsi e anche se ci si contagia la carica virale quindi la potenziale aggressività del virus è ridotta quindi è una stagione in cui è utile che i bambini riprendono una vita di relazione considerato anche il periodo di isolamento che hanno visto nella stagione invernale primaverile che sicuramente è stato per un bambino un fattore che ha psicologicamente creato un contesto di ansia di conferenza di anche di difficoltà ecco allora professore proprio per questo ecco allora la scuola adesso inizia a prepararsi nel mondo della scuola per cercare di capire come si potrà ripartire ecco su questo sarà anche importante eh una ehm attenzione anche dal punto di vista della campagna vaccinale ecco come incide il vaccino anti-influenzale per cercare di aumentare anche le difese ecco può essere utile sì assolutamente sì perché la scuola deve riprendere i bambini i ragazzi devono riprendere a settembre la frequenza scolastica anche qui con delle precauzioni cioè cercando di avere delle classi non affollate e eh differenziando gli orari di accesso e di uscita in modo da evitare che ci siano delle grossi affollamenti negli stessi orari cercando di adottare delle misure di distanziamento che siano compatibili con le attività didattiche con le attività formative e qui la sinergia tra il i bambini la famiglia e il mondo della scuola sicuramente io credo che riuscirà a garantire una ripresa scolastica in modo abbastanza eh omogenea in tutto il paese almeno questo è il nostro aspicio come pediatri perché la scuola è un'esperienza formativa di grande importanza per lo sviluppo dei bambini su questo ad esempio le mascherine se ne hai parlato tanto non le mascherine in classe le visiere ecco cosa si può dire le mascherine in classe se c'è il distanziamento se le classi non sono affollate non servono affatto le mascherine possono servire nei momenti di arrivo di uscita o quando ci sono delle attività che prevedono necessariamente un numero di soggetti in una eh elevato in una stessa ambiente quindi un'assemblea una conferenza allora lì in quel caso i bambini oltre i sei anni e i ragazzi devono indossare le mascherine come gli adulti e devo dire che i bambini e i ragazzi sono sono abbastanza eh consapevoli dicevo che è importante per la scuola che i bambini non metti anche con chiusura sul discorso dei vaccini ecco sul discorso dei vaccini no vabbè sul discorso anche dei bambini che dicevano ricordiamo anche questi giorni ha fatto sorridere l'immagine no della figlia del re di Spagna che mentre erano in strada ha ricordato a papà di mettere la mascherina ecco è stata un po' colta per quello che diceva lei ecco sul fronte vaccino anti influenzale quanto può essere importante importante perché i bambini nella stagione autunnale devono avere meno infezioni respiratorie possibili questo per evitare che ci sia un sovrapporti dell'inflezione influenzale con quella dal coronavirus perché la coinfezione potrebbe aggravare il quadro clinico e la patologia respiratoria e poi per evitare anche che ci sia confusione che si creino allassati condizioni di allarme al sulla di fronte a un bambino che ha la febbre o che ha la tosse per l'influenza quindi tutti i bambini da sei mesi a sei anni quest'anno devono essere vaccinati e che partirà una campagna che coinvolgerà anche tutti i pediatri e auspicabilmente anche i bambini con oltre i sei anni perché quest'anno in modo particolare noi dobbiamo limitare il numero di episodi di infezioni respiratorie a tutte le età consapevoli che limitando le infezioni dei bambini le limitiamo anche nelle famiglie dove ci sono anche i genitori ma ci sono i nonni che spesso sono i soggetti più vulnerabili di fronte a una patologia respiratoria infettiva stagionale. Grazie allora grazie mille davvero professore Giovanni Corsello docente di pediatria all'università di Palermo e già presidente della società italiana di pediatria per questi utili consigli grazie e buona estate. Grazie a voi e a presto. Grazie. Dunque avete sentito questi sono un po' le indicazioni per quanto riguarda appunto i bambini ma è anche importante a questo punto come detto poco fa provare a trovare un sorriso per affrontare meglio le esitazioni e lo vedete qui con noi l'avevo anticipato poco fa un artista molto amato l'attore Paride Benassai buon pomeriggio Paride grazie per essere con noi. Grazie a voi e per me sempre un piacere condividere gioie emozioni sorrisi riflessioni con TGS con tutti voi. Grazie. Eccoci. Non so Paride se tu hai sentito quello che diceva. Non so se hai sentito quello che diceva. Ho seguito. Ho seguito. Tanti utili consigli e tanti utili consigli. Indicazioni. Tanti utili consigli che sono in disabilità. Però io devo dirti che cioè a me il lockdown non mi piace io. Come no? Perché? Non è piaciuto a nessuno. Non è piaciuto a nessuno. No ma a me è piaciuto sempre in particolare perché? Perché perché diciamo eravamo un poco tutti abbiamo riscoperto una dimensione nostra costretti da tutto quello che abbiamo vissuto. Almeno nella prima parte io ero l'uomo più felice del mondo perché avevo avevo non lo so che sembra un paradosso ma un era bello che era a casa e la moglie era a casa che preparava gli sfincionelli e siano le infornate un tempo e dava nullo non avevi stressi da lavoro non avevi stressi di uscite. Niscevi quel poco che ti serviva per andare a fare un pochi spisa e ritornavi e tutto sommato era perfetto. Se non fosse stato che quando uscivamo dovevamo metterci ste mascherine che io sai quante volte tornavo a rire c'era anche mascurdato perché vivevo io poi ho avuto la fortuna devo dire sono stato molto privilegiato perché durante il lockdown cioè ero avevo quel giorno lo ricordo benissimo che stavo finendo le riprese di una serie tv che andrà prossimamente in autunno era me lo ricordo benissimo perché è il 7 di marzo si torniamo torniamo a cioè dovevamo tornare io avrei dovuto riprendere le riprese dopo qualche giorno e dissi a Marni ci si guarda andiamo un po in campagna e così che ci rilassiamo un po quattro giorni e chi fu avvenne un campagna e non ci siamo più mostri per tre mesi praticamente quindi nella prima parte nella prima parte io ero felice perché ero in mezzo alle galline pecore la natura di stile perfetto questo è il mio mondo è una atmosfera bucolica quasi ecco anche ispiratrice e rilassante capisco capisco è infatti intuivo quando c'è stato il periodo in cui tutti si affacciavano qualcuno e cantavano cioè io mi faccio un po mi sento nulla anche perché bambino in campagna un pozzurra però a finirsi chitte le voci e vai insomma mi sente nullo perché la casa più vicina è abbastanza distante quindi diciamo tutto sommato poi dopo un po come tutti ovviamente abbiamo sofferto quella che era la mancanza di libertà la restrizione di tutte insomma tutte l'incapacità di vivere i propri affetti di vedere i propri amici insomma adesso sembrerebbe che tutto in qualche modo stia lentamente tornando alla normalità tranne il mondo dello spettacolo il mondo dello spettacolo il mondo dello spettacolo noi ci domandiamo ci domandiamo quando finalmente potremo tornare a sorridere chiaramente non lo ricordiamo l'avevo detto anche poco fa con il professore Corsello bisogna sempre mantenere tutte le cautele necessarie e seguire quelle che sono le indicazioni ecco però diteci ma come fa un un artista che è abituato che vive ecco che vive il contatto con il suo pubblico che lo ama che appunto lo vuole e poi tac ecco come com'è allora io non so se lo sai ma comunque di recente il teatro biondo di Palermo ha messo in scena la ulularia per la regge di Francesco Sala e io ero uno degli attori della compagnia è uno spettacolo che è andato molto bene ha avuto tanto successo di pubblico meno dalla critica ma questo ce ne freghiamo e perché in genere c'ero miei amici se la critica scrive male vuol dire che il pubblico piace insomma però quello che accadeva a proposito per rispondere alla tua domanda come sai le normative sono abbastanza farraginose cioè in uno spazio dove possono andare immaginiamo come in questo caso eravamo all'orto botanico di Palermo proprio di fronte il vostro giornale. Di fronte al vostro giornale. Sì sì in via lì. Anzi potevate venire a fare un servizio tanto scinneva cate le camera attraversavi la strada. Ma noi abbiamo lanciato il drone. Allora la capienza diciamo le le normative davano 150 posti ma la ma la possibilità di mettere insomma in questo spazio qua 150 posti ma era necessario invece alloggiare 350 sedie. Quindi di fatto noi diciamo tutti quelli che stiamo per ora ritornando in teatro e il teatro biondo è stato uno dei primi diciamo teatri in Italia a riaprire dopo il lockdown. Adesso piano piano si stanno riprendendo tante cose e quindi c'era questa platea di 350 posti e ogni sera mi dicevano bene bene sold out tutto esaurito. Io mi scieva e ci si è non c'è nulla. Le proporzioni diciamo è tutto è relativo. Le proporzioni erano 150 posti a sedere che era il massimo della capienza ma 206 dievote e quindi sembrava che Cristiano non era cioè che credimi è una sensazione angosciante perché tu vedevi proprio il pubblico perché poi i congiunti possono stare vicini e qua mi faccio una domanda dico io mi picchio. Vediamo la domanda ecco perché questo sui congiunti si è parlato tantissimo pare ed ecco vediamo anche la riflessione di Paride Benassai sui congiunti. I congiunti sono quelli che non ti fanno bene nei nieve cioè perché uno non è che forse il congiunto è uno della famiglia perché ci sono famiglie che si scerriano si tirano i piatti cioè non si può nabire e invece ci sono diciamo situazioni affettive pur non essendo familiari che hanno invece un valore metti immaginiamo un'amicizia che dura da quando si è ragazzini cioè io ho degli amici che ringraziando il cielo conosco da una vita o storie di amori e di situazioni in cui i fidanzati la gente che non è sposata ma che convive tutta una serie di dinamiche che infatti il diciamo il nostro governatore ha dovuto correggere nel corso cioè spiegare dice ma secondo te tu come mi vedi congiunto o mi vedi congiunto io oggi mi sento congiunto è stata un po' ecco un po' di necessità di chiarimento ecco poi sono arrivati insomma no la nostra categoria è molto ma sera devi pensare che quando si interruppe per esempio la set che abbiamo ultimato di recente che ritorné di nuovo a Roma abbiamo dovuto fare noi attori per esempio tutta sia i testi sierologici sia i tamponi dopo al quale sono risultato ovviamente negativo e un poco mi dispiace perché quando ho facilito veramente che quando mi sta un po' di sì ma secondo me siccome durante il periodo mio mi venne la febbre che non avevo da tantissimo tempo erano anni che avevo una sera dopo proprio dopo quella famosa giorno là tornei a casa avevo trentotto e mezzo mi chiami venuto coronavirus sono sicuro e stavo immaginando in qualche maniera di usare la tattica che usano in alcune birrerie palermitane che voce del popolo voce di dio si dice ma tu ti preoccupare come c'è detto non ci ne è covid se tu per capire sei se ho coronavirus ti pigli una birra messina tacale se tu senti il bucchio non suono allora c'è corona invece se la messina beve perché capisci la la l'allusione alla birra corona coronavirus ah ecco se se ne è parlato tanto ecco però ecco dice se è moscato quello sei casce di birra messina non aveva niente è perfetto ecco e guarda un po' guarda un po' cosa cosa si arriva a pensare guarda un po' ma invece ecco pari tornando ecco tornando seri ecco le richieste del mondo dello spettacolo alle istituzioni quali sono in questo momento secondo te quelle più importanti pari allora guarda noi siamo la categoria più massacrata che c'è in questo momento tra i lavoratori perché ovviamente diciamo la nostra professione non è che sia stata sempre in qualche modo sappiamo tutti che una condizione diciamo molto precaria che non c'è nessuna stabilità cioè già noi abbiamo fatto in passato salti mortali in situazioni ottimali pensa che molti molti attori molte compagnie mentre prima si girava tantissimo mi riferisco in questo caso al teatro spesso riuscivano a girare grazie allo sbigliettamento che era una fonte in qualche modo necessaria e sufficiente a contenere i costi di produzione in una dimensione del genere abbandonati dallo stato tutto si complica in maniera incredibile basti pensare che in questo momento anche in sicilia che è un teatro all'aperto naturale le cose che stanno partendo sono pochissime e le difficoltà sono in mani io sto per fare una cosa che se andrà in porto magari ne riparleremo ecco è sicuro che la seconda cosa perché poco fa ci hai detto appunto e noi comunque ecco è stato sicuramente un appuntamento molto molto importante quello che citavi poco qua poco bene è segnare la ripartenza ecco svelaci però vorrei lanciare grazie vorrei lanciare un segnale alle istituzioni faccio un esempio molto pratico se è un teatro che precedentemente aveva 300 posti a sedere ed è costretto a dimezzare per il distanziamento e quindi può far conto esclusivamente su 150 posti sbigliettabili ovviamente in un clima del genere dove insomma di danaro come sappiamo ne gira sempre di meno cioè tutto questo un biglietto non può costare il doppio solo perché deve sopperire a diciamo a una defiance quindi il biglietto viene mantenuto sempre alla stessa allo stesso valore però di fatto ogni produzione ogni gestore di teatro insomma ogni capocomico ha di fatto una defiance notevole e non copre i costi allora la domanda è molto semplice coloro che farei alle istituzioni il sostegno da chiedere basterebbe che lo stato diciamo in qualche modo coprisse quei biglietti che in questo momento non si possono vendere per ragioni di sicurezza eccetera eccetera in modo in modo in modo che diciamo in qualche maniera la categoria venga tutelata invece in questo momento e questo parlo con molta sincerità c'è un caos sovrano che regna una disperazione che è tangibile tra tutti gli operatori che non sappiamo io faccio io non faccio io non lo so le cose definitive sono veramente pochissime in questo momento tranne grosse istituzioni dello spettacolo il resto è per ora ancora in attesa perché proprio ieri ha avuto una riunione con un ingegnere per appunto per capire quali erano tutte le normative necessarie per alloggiare il pubblico e mi spiegava che insomma in questo momento c'è un è assolutamente facile ecco lì veramente ci vogliono guarda è un delirio è un delirio veramente come diceva ma picchi ma picchi un esame a casa facciamo finta che c'è ancora un coronavirus e stiamo allora questo a mio avviso dipende un po dalla sicuramente necessario tutelare la salute di tutti quanti è indispensabile però mi chiedo ma perché se io vado in teatro a palermo mi metto in oggi sull'autobus non ho nessun distanziamento arrivo poi in teatro devo entrare e mi devo distanziare perché salgo su un pullman che mi deve portare da palermo a trapani o a catania e oggi non ho salgo su un pullman non ho nessun distanziamento la stessa cosa con l'aereo stessa cosa perché tutta questa attenzione anche negli aeroporti avviene soltanto nelle fasi che precedono il decollo quindi l'ingresso nell'aereo ma tutto quando sei a terra tutto ci sono tutta una serie di cose che sappiamo perché chi viaggia sa che tu dici vabbè a questo punto poi arrivi e entri dentro l'aereo e siamo tutti accanto uno accanto all'altro chi si annudisce chi si tossisce chi si fa l'unica cosa ci chiedono la mascherina stessa storia nel pullman e nell'autobus quindi credo che ci sia un po' di distrazione non in malafede infatti parlo di distrazione e la nostra categoria è veramente veramente molto massacrata così come anche nel set ci non trova per esempio quando ritornammo abbiamo ricominciato le riprese scopre una nuova figura perché c'è il il covid manager ah ecco appunto questo questo diciamo che il covid manager è diventato una figura importante fondamentale all'interno anche del set del set e chiesto che girava con il suo termometro e uno si scanta dice meno che il pitù sei un pochino si avvicinava minacciosamente immagino per fortuna era una donna una donna molto simpatica dico però allora diciamo che siamo in questo momento in una situazione di stand by che stiamo scoprendo pure noi perché poi talvolta abbiamo la gioia di ritornare sul palcoscenico di ritornare dinanzi a una telecamera una macchina presa poi invece ci sono tutta una serie di restrizioni che rendono ancora più precario un lavoro che era già precario ma questo e questo credo che di dirlo con commissioni di causa e tutti i miei colleghi eh par di noi ne parliamo insomma il comune denominatore è questo poi contenti contenti di riprendere però tu immagina per esempio eh tutto quel teatro che è anche divertente comico che diciamo che fa della risata diciamo il fine cioè far ridere un pubblico che è compatto e coeso è molto più facile e come dire è più facile far ridere cento persone che stanno assieme che uno ha settato la dettaglia diciamo e fanno il rire e tu è davvero è davvero un'impresa davvero difficile noi ovviamente ecco siamo vi siamo vicini eh chiaramente speriamo spieghiamo che più presto arrivino delle risposte concrete per cercare di eh ripartire il guaglio il guaglio è che in questo momento almeno sino ad oggi eh si dice che questa situazione sarà mantenuta il governatore dice che questa situazione sarà amante il decreto legge prevede che sino al primo di gennaio 2021 le condizioni ripeto non si capisce secondo qual è logica e ragione per quanto riguarda il teatro eh ovviamente mi riferisco sia al teatro di prosa sia la lirica e i concerti o tutto il mondo dello spettacolo tutto ciò che fa aggregazione dentro il teatro ehm sarà diciamo soggetto sino al primo gennaio a queste eh disposizioni qua noi ci auguriamo che noi ci auguriamo che più presto venga trovata una cura un antidoto e soprattutto una soluzione perché possiamo venire fuori definitivamente al più presto sicuramente sicuramente abbiamo tutti bisogno di riabbracciare la nostra vita riabbracciare tutto ciò che sappiamo eh si diceva pure che questo coronavirus ci avrebbe reso migliori in certi casi si segnala io un neveo eh sì però confido però confido perché in effetti in effetti un po' come dicevo io diciamo paradossalmente eh ne parlavo anche con Salvo Ficarro un po' di tempo fa mi diceva anche lui come a me diceva a me a me mi piaceva perché sono stato con la mia famiglia sono stato sì tranquillo eccetera eccetera poi chiaramente una corda non si può tirare per tanto tempo poi si spezza quindi auguriamoci di tornare presto a sorridere che tutto questo possa servirci per migliorare perché uno noi siamo nati per evolverci abbiamo la necessità siamo siamo nati per questa ragione e c'è bisogno anche degli artisti che ci facciano sorridere perché il buon umore affrontare tutto con il sorriso è sicuramente diverso noi ti ringraziamo per essere stato con noi per aver condiviso con noi questo momento per averci anche fatto sorridere e riflettere ecco questo un po' poi la bellezza dell'artista che riesce a farti sorridere allo stesso tempo a far pensare e riflettere su cose anche serie e importanti manteniamo il sorriso siamo ottimisti come sei sempre stato e continueremo a farlo e alla prossima allora grazie a voi grazie è stato un piacere grazie arrivederci grazie a pari noi ci fermiamo qui per questo appuntamento continuate a seguirci anche sulla nostra pagina facebook di tgs grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti